Siamo sul trenino del Fuji che ci sta riportando indietro per un breve tratto prima di tagliare verso Yokohama, quindi tagliamo fuori Tokyo, e dirigerci direttamente con lo Shinganzen a Kyoto. Però adesso vorrei farmi vedere, visto che sono nella prima carrozza del trenino, la vista dall'autista del treno. Come spero siete riusciti a vedere i gesti delle attività di un circuito. macchinisti dei treni sono veramente incredibili come quelli degli autisti di autobus un commento dal baka-san perfetto state vedendo rifare è uno zomi n700 il più veloce dei treni giapponesi che noi non prenderemo perchè costa veramente una faccia da papera su Crastro Icari diretti a Kyog e vorrei farvi vedere a questo punto i fuji che non siamo riusciti a vedere al calo di Puciclo guardatelo è là proprio là sullo sfondo non lo vedete è perchè è ancora coperto dalle nuvole ma vi volevo far vedere questo freno non tanto lo spazio per sedersi ci stanno praticamente le gambe più anche una valigia dovrebbero probabilmente prenderne atto le ferrovie nostrane il nostro baka-san si sta già rilassando e fuori vedete sfrecciare le schede velocità e il paesaggio noi ci rivediamo a Kyoto ciao sono le 2.40 e io e il baka-san siamo finalmente arrivati a Kyoto come potete vedere dalla torre di Kyoto che vi sto inquadrando adesso quella alle mie spalle invece è la stazione ferroviaria nuova tutta di vetro che dal mio modesto punto di vista è un po' un pugno in un occhio siamo partiti comunque questa mattina alle 9 meno un quarto quindi è stato un giro abbastanza lungo abbiamo cambiato ben quattro treni ma alla fine ce l'abbiamo fatta sono le sei di sera oramai passate quello che vedete alle mie spalle è l'inizio di uno dei quartieri più frequentati di Kyoto cioè Ghion e io sono all'entrata del complesso templare dello Yoshida Jinja quartiere assolutamente da vedere sia di giorno che di notte adesso sono nell'area dello Yoshida Jinja alle mie spalle per chi si ricorderà quando sono venuto nel 2009 ho guantato i fagioli Porta Fortuna faccio una rapida carrellata all'indietro per farvi vedere un 360 tutto quello che è l'area attualmente pronta per la festa dei morti che ci sarà domani le baka-san abbiamo deciso di mangiare okonomiyaki io e tepaniyaki vediamo un attimo come lo preparano lo preparano proprio davanti sulla piastra ovviamente abbiamo scelto tutta roba a base di maiale dopo aver mangiato okonomiyaki io e il baka-san abbiamo deciso di chiudere la serata passeggiando per Ghion, vie tradizionali stile giapponese all'interno di Kyoto quindi vi salutiamo, vi diciamo ciao ciao e domani vedremo cosa fare probabilmente andremo in giro per tempi perché ancora non lo sappiamo grazie grazie